Per scoprire quali sono i servizi ancillari che veramente funzionano nel tuo hotel devi aumentare il tuo tasso di errore. Sì, devi provare più volte a vendere i servizi ancillari oppure crearli di nuovi e metterli a test magari facendo anche degli A-B test cercando appunto delle varianti dello stesso servizio. Solo tenendo la mente aperta e continuando a mettere alla prova le tue idee potrai capire qual è la soluzione giusta che funziona nel tuo albergo. Quindi mi raccomando per incrementare la vendita dei tuoi servizi extra mantieni la mente aperta e mettiti continuamente alla prova.